I primi passi del governo non potevano che essere all'insegna del prorogare, dell'andare in continuità perché nessuno possiede la bacchetta magica e non si cambia la realtà in un solo giorno e del resto la prova a cui il governo Draghi è atteso è relativa alla strutturazione del programma e all'efficacia di utilizzo dei fondi Next Generation. Quella è la grande prova, il resto insomma nessuno ha la bacchetta magica, accanto a quella c'è la campagna vaccinale che come disse il Presidente del Consiglio nel corso del suo discorso programmatico deve vedere la collaborazione delle strutture pubbliche e private e quindi anche questo lo stiamo aspettando e arriverà. Per il resto alcune proroghe stavano nell'ordine delle cose e del resto il cosiddetto decreto mille proroghe che già di suo è una vergogna, una vergogna assoluta. Era in Parlamento da un mese prima che nascesse il governo Draghi. Ma c'è un punto su cui quel decreto mille proroghe segna una cosa sgradevole anche per il nuovo esecutivo, per la maggioranza che lo compone e per il Parlamento tutto, per le forze politiche. Ed è relativo a un emendamento al decreto mille proroghe presentato dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia. Tale emendamento chiedeva la sospensione dell'efficacia della cancellazione della prescrizione. Naturalmente è una vergogna il decreto mille proroghe, non è che diventa meno vergognoso se ci infili altre cose che poi dovranno essere prorogate. Però quella cancellazione fu un atto incivile, inutilmente incivile, e quella norma va cancellata perché mette l'Italia fuori dal novero della civiltà. Un provvedimento incivile perché la prescrizione è un istituto del diritto romano, serve a tutelare il cittadino rispetto allo strapotere dello Stato che ti porta in giudizio. Chi ti porta in giudizio deve essere capace di dimostrare che sei colpevole, non può tenerti in quella condizione per tutta la vita. Con calma, poi adesso forse mi dicevo, anzi, siccome non ho gli elementi per condannarti, facciamo così, ti tengo sotto processo per 30 anni. Una roba di assoluta inciviltà che umilia il diritto, colpisce gli imputati che sono inutilmente lì ad aspettare un giudizio e naturalmente colpisce anche le vittime del reato perché non arrivi mai a sentenza. Questa è l'inciviltà. La sua totale inutilità è per giunta data dal fatto che la maggior parte dei procedimenti che vanno in prescrizione ci vanno prima di arrivare al primo grado e quindi vanno comunque in prescrizione perché la nuova norma pessima prevede che la prescrizione si interrompe con la sentenza di primo grado il che aggiunge una illogicità totale per cui tu vieni chiamato in giudizio, lo Stato tramite la procura della Repubblica ti accusa di avere commesso un reato, vai davanti a dei giudici. I giudici di primo grado ti dicono no, quest'uomo è innocente, non ha commesso il fatto o il fatto non costituisce reato e c'è che è bello, finalmente mi hanno assolto. No, perché in ragione del fatto che quella è una sentenza si cancella la prescrizione, la procura fa appello e per i prossimi 30 anni stai lì ad aspettare dicendo che sei sotto processo e ti avevano assolto in primo grado, una roba orribile di analfabetismo, di una incapacità culturale, ma non solo il governo si è opposto all'emendamento di Fratelli d'Italia, che ripeto era solo una sospensiva, non era una riforma, ma è successo che la Lega che votò quel provvedimento incivile insieme al Movimento 5 Stelle si astiene. Quindi si astiene sull'obbrobrio che ha fatto e sul possibile rimedio al rinvio. Forza Italia che lo avversò potentemente si astiene. Fratelli d'Italia l'ha presentato, vota a favore e tutti e tre dicono ma noi siamo uniti nel centro-destra, ma uniti su che? Che siete divisi, che la metà basta. Il Partito Democratico, che si oppose all'incivile riforma, vota contro l'emendamento perché adesso è alleato del Movimento 5 Stelle. Ma è una roba che non si può vedere. Detto questo, non è che la soluzione dei problemi italiani consiste nel rimettere la prescrizione come è giustissimo ed è bene che sia, ma nel far funzionare i processi. Capisco che il governo dica adesso noi riformiamo i processi e in quello metteremo anche la riforma della cancellazione della prescrizione ma siccome di promesse si crepa, quella rinvio, quell'ulteriore rinvio segna un momento certamente non felice.